Questa è una salita, che può essere un'entrazione del torrente o una salita del torrente. Dice che ci sono 5 o 8 metri. Sabendo che già sta qui, già si basa facile. C'è un'entrazione del torrente o un'entrazione del torrente. Questa è un'entrazione del torrente o un'entrazione del torrente. Questa è una cimentata. Ho avuto un'entrazione del torrente. No se può continuare. Un'atraz delle grandi e non si può continuare. Un'amore fine, un pollo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.